Ciao amici, sono Gianni Fantoni, di solito faccio il comico, ma mi sono trovato a fare il programmatore, cioè mi sono ritrovato a fare il programmatore, perché prima di fare il comico a tempo pieno facevo il programmatore a tempo pieno, ma parliamo di 30 anni fa. Ora, negli ultimi tempi ho avuto un'idea adatta a essere sviluppata sui telefonini, ma non telefonini a caso, telefonini Apple, essendo io Apple maniaco o Apple fan, Apple fan Tony, da tanto tempo, e ho avuto un'idea che va bene solo, esclusivamente per i telefonini, quindi sugli iPhone, ma anche sugli iPad, però sempre progettato per iPhone, quindi va anche solo iPad, ma è un'applicazione per iPhone. Che cos'è? È un'applicazione che unisce i miei due mondi, quindi non quello della gastronomia, come qualcuno potrebbe pensare, ma il mondo della comicità applicato alla telefonia mobile. Ora, per sviluppare questa applicazione ho intrapreso la via più semplice, che era quella di incaricare un programmatore, molto bravo peraltro, che però, come tutti i programmatori, è completamente pazzo e quindi, pur essendo molto bravo, non portava a caso il risultato nei tempi che io desideravo. Quindi a un certo punto mi sono deciso a fare il grande passo, cioè tornare a programmare. Dopo 30 anni che non lo facevo più, quindi qualcosina era cambiato nel frattempo, e ho navigato su internet per cercare il miglior spacciatore di corsi relativamente a Swift, visto che Apple aveva introdotto di recente rispetto a quando avevo deciso io di rimettermi a programmare questo simpatico nuovo linguaggio di programmazione, ho detto cerchiamo di fare un corso in quella direzione. Ho navigato, mi sono rivolto ad un fornitore, di cui non farò il nome, il quale dopo avermi promesso un corso che sarebbe iniziato di lì a poco, è sparito, cioè ma un corso a pagamento, io stavo per pagare, non sento più niente, ma nell'imminenza dell'inizio del corso chiedo via mail, non mi viene risposto, passano 2, 3, 4, 5 giorni. Il giorno prima dell'inizio, del supposto inizio del corso, ah ci scusi abbiamo avuto dei problemi, va bene questa è la serietà, allora finalmente mi sono rivolto al posto giusto, cioè Objective C, Marcello Catelli, alias Marcello Catelli, e fortunatamente ho intrapreso la strada giusta. Due vantaggi su tutti, a parte la preparazione di Marcello e la simpatia umana che trasuda da ogni poro, il costo che è adatto a quello che viene proposto, la possibilità di rifarlo nel corso dell'anno solare, che è una cosa che per me è stata fondamentale, perché per una serie di vicissitudini cosa può succedere? A me è successo così. Fai il corso, poi non hai tempo subito di mettertici a lavorare sopra e cominciare la programmazione da solo subito dopo il corso, succede che perdi un po' le piccole nozioni o le grandi nozioni che Marcello dall'alto della sua grande preparazione ti aveva gentilmente messo a disposizione. Allora cosa fai? O diventi mato o rifai il corso. Ecco, dopo aver fatto la prima volta il corso e aver trappolato da solo per un mesetto, un mesetto e mezzo, eccetera, circa, l'ho rifatto e lì finalmente mi si sono dischiuse le porte della programmazione vera e propria. Questo è il vantaggio numero uno. Vantaggio numero due è il supporto post-corso, perché Marcello, non solo con me, ma con tutti quelli che hanno fatto il corso, si presta veramente, con un tempo di reazione che neanche al 118 quando hai un'emergenza, si presta a darti una mano e toglierti dalle pesti. Cioè, oddio, non riesco a fare questa cosa, come posso fare? Tu mandi e Marcello magicamente risponde. Ecco perché consiglio a chiunque che voglia intraprendere insomma questo percorso di imparare a programmare come si deve per gli iPhone, a rivolgersi a Objective C e a Marcello Catelli. Io l'ho fatto e sto per immettere sul mercato, amici che state ascoltando e guardando, una fantastica applicazione comica di cui non vi svelo niente adesso perché uscirà a gennaio. Vi posso far vedere solo che esiste, ve la faccio vedere su un iPod Touch, non vi dico come si chiama, vi faccio solo vedere che sono vari personaggi che girano così eccetera, appositamente l'ho fatto vedere in bianche nero perché insomma è giusto lasciare la suspense, ma tanto sicuramente ne sentirete parlare, ne sentirete parlare, comunque uscirà verso metà gennaio. Quindi un saluto a tutti quelli che hanno guardato il video fino qui e anche quelli che non hanno guardato il video fino qui. Venitevi a trovare su Facebook, su, oppure su, che ne so, dove volete, su Twitter oppure sul mio sito ufficiale che è giannifantoni.com. Andate da Objective-C, non andate da altri, capito? Perché è il più meglio che c'è, che non si dice. Ciao!